Impressione a caldo su Los Colonos di Felipe Galvez, è un'opera prima del regista cileno e è molto interessante in quanto parla del massacro genocidio che è stato compiuto anche lì in Sud America e in Cile contro i nativi del luogo e lo fa con una storia western diciamo di tre persone totalmente opposte, ovvero un inglese, un texano e un mezzo indios che vengono incaricati dal signore del luogo di andare a scacciare tutti gli indios perché danno fastidio alla sua terra e da questa qui poi parte una grande digressione su il ruolo appunto dello stato cileno e i nativi e la civilizzazione occidentale molto interessante con un finale bellissimo, peccato che però la narrativa si incarti molto soprattutto nella parte centrale e questo viaggio sia un po' troppo asettico e poco pregnante per dare tutto